Dopodiché, collega Scerra ha accusato questo governo di portare avanti una politica di austerità, ma non so se con questo lei intende che abbiamo smesso di buttare i soldi degli italiani dalla finestra, perché se così fosse, forse lei fa riferimento al fatto che non abbiamo speso i soldi dei contribuenti, bonus monopattini, banchi a rotelle, super bonus, super buffi, sussidi a pioggia, il reddito di cittadinanza, no, quello non lo facciamo, siamo stati anzi votati proprio per smettere di fare questo lavoro, perché era quello che gli italiani chiedevano e forse la ragione per la quale non hanno confermato voi al governo. Io potrei fare decine di esempi, non ultima quella del super bonus, anche per ricordare a chi diceva che la borsa italiana, collega Ricciardi, era cresciuta soprattutto grazie alla crescita delle banche, sì, perché più del 30% dei soldi che noi, dei miliardi, delle decine di miliardi di euro che abbiamo spesi nel super bonus, sono finiti a banche e intermediari finanziari, che quindi hanno anche per questo realizzato dei profitti record. Per non parlare delle frodi clamorose, anche questa settimana le abbiamo viste, continuano a emergere, solo nelle ultime settimane sono state scoperte truffe per quasi un miliardo di euro, risorse tolte alla sanità, ai trasporti, alle famiglie e a tutto quello che poteva essere sicuramente più utile. Penso che qualcuno prima o poi, più che dare consigli agli altri, dovrebbe fare i conti con la propria coscienza, per aver immaginato così male un provvedimento che pure nasceva da un intento condivisibile, da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali, lasciando invece migliaia di imprese di persone per bene in un mare di guai. Come sappiamo noi che cerchiamo di risolvere da mesi questa questione. Chissà se prima o poi si vorrà fare luce su quanto accaduto.